Il viaggio sottoscorta dall'aeroporto di Napoli ai centri lucani di stoccaggio, Venosa, Chiaromonte, Potenza e Matera. Le tanto attese nuove dosi di vaccino anti-covid sono già in Basilicata. Per quanto riguarda la provincia di Potenza, sono arrivate oggi tre confezioni, ogni confezione di circa mille dosi, e una quarta confezione arriverà giorno 13. So che anche oggi è arrivata una confezione destinata a Matera. Quattro dunque gli stoccaggiuntivi già attualmente disponibili. Da ognuno sarà possibile ricavare 1170 dosi, come previsto dagli ultimi protocolli che consentono di estrarre sei dosi da ogni flaconcino. A conti fatti dovrebbero essere altre 4.680 le dosi disponibili. Entro 48 ore poi dalla Pfizer arriverà in Basilicata un'altra consegna. Queste ultime dosi, assieme a quelle già precedentemente accantonate, il 30% circa della disponibilità totale, assicureranno ai primi vaccinati lucani la dose di richiamo. Primo appuntamento il 17 gennaio, quando sarà la volta della seconda iniezione per i 105 sanitari protagonisti del V-Day Lucano. Intanto già si lavora anche su altri fronti. La novità è che arriveranno anche i vaccini di Moderna. Quelli di oggi sono i vaccini di Pfizer. Arriveranno domani. Io ho già convocato un comitato provinciale per l'ordine della sicurezza pubblica per pianificare i servizi di scorte, di vigilanza e controllo anche per questa fornitura di Moderna.